E' stata approvata dal Consiglio regionale, con i soli voti della maggioranza, la seconda variazione di bilancio che conferma i contributi della regione per importanti realtà della Versilia, a partire dal Carnevale di Viareggio e dal Festival Puciniano, per le quali da anni ormai le risorse stanziate da Firenze sono determinanti per i bilanci annuali. Per Burlamacco confermato il contributo straordinario da ben un milione di euro, 660.000 invece alla Fondazione Lirica, per il pagamento delle rate e dei mutui contratti per la realizzazione del Gran Teatro all'Aperto. Un segno tangibile ed un contributo importante per garantire la prosecuzione dei due progetti culturali che sono fondamentali per valorizzare l'immagine di Viareggio e della Versilia, ma anche per l'indotto economico che comportano e che diffondono sul territorio. Contrario il voto di Forza Italia e della Lega, secondo il capogruppo azzurro Maurizio Marchetti, visto che sono fondi erogati con ciclicità, meglio sarebbe renderli strutturali e inserirli direttamente in bilancio, così che su quelle risorse la governance di questi organismi possa fare programmazione. Dalla regione in arrivo anche un milione di euro per lo sviluppo del porto turistico della Madonnina, risorse destinate alla nuova società che insieme alla municipalizzata Iker avrà il compito di gestire e rilanciare il porto turistico di Viareggio. L'operazione, destinata a partire ormai ad Anno Nuovo, vede i forti dubbi della Lega, come spiega la capogruppo Elisa Montemagni, alla luce della difficile situazione finanziaria della municipalizzata Iker. A completare il quadro dei finanziamenti regionali ci sono i 135 mila euro al comune di Stazzema per una serie di manifestazioni sui valori della resistenza e dell'antifascismo e la conferma, già annunciata, degli 80 mila euro di contributo straordinario al comune di Massarosa per la manutenzione della viabilità comunale interessata a giugno dal campionato italiano di ciclismo Under-23.